Si parla di queste civiltà nella scrittura? Certo! Ve ne do qualche esempio. Salmo 23. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Nel 2008 Papa Ratzinger ha tolto questa frase, questa parola, e ci ha messo il mondo, che è una ripetizione. Lo dice già qui. Del Signore e la terra e quanto contiene. Che senso ha dire il mondo e i suoi abitanti? Nelle Bibbie precedenti c'era scritto l'universo. C'è un'altra profezia che dice che una delle bestie avrebbe cercato di cambiare i tempi e la legge. Isaia, 60, paragrafo 8. Chi mai sono costoro che volano come una nuvola, come colombi verso le loro colombaglie? Cosa vedeva Isaia per dire questa frase? Questo che poi è stato immortalato nelle foto del contattista americano George Adamski. Le navi madre e i dischi volanti che entrano e escono da queste enormi e gigantesche, alcune sono state viste lunghe chilometri, da cui entrano e escono i piccoli dischi volanti, che non sono navi interplanetarie, ma sono degli apparati di ricognizione locale. Quindi tra i sistemi solari o tra i pianeti usano queste grandi astronavi, da cui poi fuoriescono i ricognitori. Nuovo testamento, non si turbi il vostro cuore, Giovanni 14, paragrafi 1-3. Non si turbi il vostro cuore, credete in Dio e credete in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. In alcuni Vangeli dice stanze, ma non è corretto, perché il termine originale in greco è dimora, perché la stanza può essere vuota, la dimora è dove si vive, dimorare, abitare. Quindi ergo nella casa del Padre mio, che è la creazione, vi sono molti luoghi abitati. Se no, continua Cristo, vi avrei detto che vado a prepararvi un posto e infatti se n'è andato. Dopo che è risorto, è stato 40 giorni con gli apostoli e i discepoli, e poi se n'è andato. Dove è andato? Che è Cristo un vapore, sta nell'aria, andrà da qualche parte il Signore, è due mele anni che manca da questo mondo. Dove è stato? Da un'altra parte. Poi lui lo dice, io non sono di questo mondo. Lo dice chiaro nel Vangelo. E di quale mondo è? E con questo non sto affermando che Gesù è un extraterrestre, ma avranno un senso queste parole che lui ci ha detto? E quando sarò andato, quindi è andato a fare qualcosa, perché dice, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, torno di nuovo e vi prenderò con me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi Gesù è venuto, è risorto, se n'è andato, ha preparato qualcosa e adesso viene per portare coloro che hanno osservato le sue indicazioni con lui. Questo lo ripete Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, che dice che il Signore tornerà e gli eletti verranno prelevati e si incontreranno tra le nubi con il Signore. Allora o diventeranno tutti passerotti, oppure stiamo parlando di cosa, amici? Ormai lo possiamo dire di aviazione, qualsiasi sia la tecnologia usata. Aviazione, incontrarsi in mezzo alle nuvole, vuol dire che tu ci arrivi in volo. Non ci arrivi con i palloncini o con le ali da passerotto, ci arrivi in volo. Ovviamente gli angeli non hanno le ali, era solo un simbolo. Siccome gli angeli sono uomini, come noi, quando un artista doveva pitturare un uomo che parla con un angelo, siccome due uomini, come faccio a indicare l'angelo? Ci metto le ali, il simbolo del volo. C'è la mistica stigmatizzata Teresa Neumann, che è il suo biografo che presenziava alle sue estasi e poi scriveva e reso conti di quello che Teresa viveva. A un certo punto, dopo che lei aveva visto l'annunciazione a Maria, le chiede ma Gabriele aveva grandi ali, no? E lo guarda e dice ma che sciocchezza, gli uomini luminosi non hanno bisogno di ali, non ce le hanno le ali. Gli uomini luminosi semplicemente compaiono e scompaiono. Cioè, si materializzano e si smaterializzano. Oppure, possiamo dirlo, si teletrasportano e si riteletrasportano. Ma duemila anni fa non si potevano usare questi termini. Che significa questo? Che nonostante la terribile, enorme evoluzione culturale, tecnico-scientifica della società terrestre, la nostra religione è rimasta paralizzata a termini e concetti medievali. Perché in realtà queste cose ai primi cristiani venivano insegnate. Flavio è uno studioso, tiene nella nostra associazione lezioni sul cristianesimo dei primi secoli. Queste cose venivano spiegate ai cristiani, perché ancora non c'era una religione cooptata dal sistema come dopo ha fatto Costantino circa tre secoli dopo. Andiamo avanti. Giovanni capitolo 10, versetti 14-16 Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore, e ho altre pecore che non sono di questo vile. E chi sono queste altre pecore che il Signore deve condurre? Anche queste io devo condurre. Infatti è il Re dell'Universo Cristo. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Questo è il nuovo regno. Quando l'ovile di questo pianeta si unirà agli ovili degli altri pianeti. Cioè tutte le pecore finalmente stanno insieme. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo o della pecorella smarrita? Il figlio prodigo è l'umanità della terra, che è fuori dal regno di Dio. Un tempo c'eravamo nell'Eden, paradiso terrestre, quando noi camminavamo con gli angeli e con Dio. Poi abbiamo sbagliato, cioè abbiamo scelto le vie del male. Ovviamente la mela, Adamo, Eva e il serpente sono solo simboli. Non è che pensiamo che davvero a causa di quella poveretta dopo l'umanità andate, per favore. È un simbolo dove la conoscenza è la sperimentazione della materia. Quindi l'uomo si vincola alla materia, quindi alla conoscenza del male attraverso la sperimentazione materiale, nell'errore, nell'utilizzo del libero arbitrio e quindi esce fuori dalla legge e si condanna a un peregrinare nelle vie della materia e nell'ignoranza delle leggi che governano la creazione. Andiamo al libro dell'Apocalisse, chiarissimo. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Qui si rifà di nuovo a Daniele, l'Evangelista Giovanni. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora contro tutti quelli che abitano in cielo. Non stiamo parlando di piccioni o di colombe, ovviamente, stiamo parlando di altri esseri. Vogliamo vedere qualche profezia più moderna che annuncia il contatto cosmico tra questi esseri, oltre a quella che abbiamo visto di Giorgio, che deve spiegare al mondo che la visita extraterrestre è un segno messianico. Cioè, la visita extraterrestre indica che siamo nei tempi appunto del compimento della profezia della parousia. Perugia, parousia, il ritorno di Cristo. Abbiamo persino una città in Italia che ha il nome dell'evento che sancisce la seconda venuta di Cristo. La città di Perugia viene da Parousia. La parousia è il ritorno di Cristo. Lo sapevate? Adesso lo sapete. La nostra religione è una religione per sentito dire. Non è bello questo, amici, perché l'insegnamento spirituale è il funzionamento del marchigegno importantissimo e preziosissimo che abbiamo noi. È la nostra vita. Noi, la nostra vita è un delirio. È come che uno si compra l'automobile e pretende di fare sano e salvo un viaggio da Palermo a Milano, non sa guidare e non conosce il codice della strada. Ecco perché la nostra vita è un incidente continuo sulla salute, a livello sociale, familiare, economico, sentimentale, perché non conosciamo le regole. Le leggi della creazione non sono credo. Le leggi spirituali sono leggi potentissime da cui derivano le leggi della fisica. Stiamo parlando di scienza, amici, non di credo. Vi credo, lasciamogli ai gonzi, agli stupidi, agli ingenui. Noi abbiamo bisogno di conoscenza, di sapienza, di sapere. Noi non sappiamo come funzioniamo, non sappiamo un fico secco di realmente sostanziale sulla vita. Abbiamo in testa un sacco di sciocchezze per sentito dire. A volte nelle conferenze a Salza 1, il macellaio, ci prego, mi dica, lei non applica il metodo scientifico. Il macellaio è il metodo scientifico. Ma che c'entra? L'ha sentito dire. E io gli dico, guardi, caro amico, lei mi parla indubbiamente del principio galileiano, no? E allora già quello... Sì, 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 beh, guardi, io applico il rasoio di Ockham, che è un altro postulato scientifico. Cascata al pero, non sa che cos'è. Sapete cos'è il rasoio di Ockham? Chi lo conosce? Una persona. Il rasoio di Ockham dice, tra due ipotesi su una teoria scientifica, quella che è sicuramente vera è la più semplice. Allora, milioni di persone hanno visto i dischi volanti, migliaia hanno visto gli extraterrestri, esistono un numero spropositato di messaggi che ormai sono diventate delle profezie realizzate. Qual è la spiegazione più semplice? Che sono extraterrestri. E' tanto facile, lo dicono. Ci sono i fatti storici, le prove scientifiche, eccetera. Il rasoio di Ockham mi dice, sono extraterrestri. Anche perché, vedete, il principio galileiano è di... Sapete perché? Il principio galileiano dice, è il scientifico ciò che è solo ripetibile in laboratorio. Giusto amico, visto che sei quello che capisci? Allora, io e te adesso, prendiamo sto computer, lo spengo, andiamo in Amazzonia, la prima tribù che incontriamo, gli dico allo sciamano della tribù, gli dico, senti, mi ripeti nel tuo laboratorio sto computer? Secondo voi lo ripeterà? No. Eppure è scientifico il computer. Come può il nuovo concetto scientifico appena scoperto essere ripetuto in un laboratorio, quando quello è oltre la scienza ancora conosciuta? E tutti lì, il povero macellaio, mi scusi, lei non applica il metodo scientifico. Ma che ne sai tu? È tutto così, amici. Le persone non sanno ragionare. Tutto quello che esprimono come concetti e soprattutto la classe borghese media, i dot, i ing, ab, prof, tutta sta gente qui ripete a pappardelle cose che non ha capito. Hanno solo fagocitato un enorme numero di nozioni, ma non le hanno capite, non le hanno ragionate criticamente secondo un rigoroso processo logico. Ripetono a vanvera, fanno i pappagalli. Infatti sono quelli, gli universitari, i peggiori. Non riesci a farli ragionare. Gli devi aprire il cervello, buttare via quello che c'è dentro, a volte nulla, e metterci qualcosa. Lo so che sono un po' urticante, però è la verità. Allora, altre profezie moderne e poi diamo spazio alle vostre domande che è la cosa più importante. Allora, Nostradamus. Nostradamus è la reincarnazione di un profeta molto famoso dell'Antico Testamento. Quartina 1, 91. Gli dèi agli umani faranno apparizione ai grandi autori del grande conflitto che faranno primavera, cielo visto sereno, spade e lancia che verso la principale mano sinistra faranno la più grande afflizione. Che significa? Ve la rileggo in termini più chiari. Gli esseri superiori, gli antichi dèi delle scritture si manifesteranno all'intera umanità. Li vedranno anche i potenti, accecati di potere, che scateneranno la guerra nucleare in primavera, una giornata serena. Guerra che provocherà la principale distruzione nella parte occidentale del pianeta. Nostradamus ci sta dicendo quello che già la Vergine di Fatima ha detto perché dentro il terzo segreto di Fatima vi è un segreto nel segreto che è una riga che dice e in quel tempo, seconda metà del secolo XX, esseri cosmici verranno da lontani lì dell'universo nel nome di Dio. Esseri cosmici che vengono nel nome di Dio. Quindi la Madonna anche questo annuncia, l'era ufologica. E Nostradamus lo ripete, che il contatto cosmico accadrà in un momento di grandissima sofferenza del genere umano, dove si compirà questa profezia che dice Cristo. Di due, uno verrà preso e uno verrà lasciato. Due donne saranno al pozzo, una verrà presa e una verrà lasciata. Presa da chi? Presa perché? E l'altra? Lasciata perché? Ce le siamo mai poste queste domande? Ma noi non conosciamo la scrittura quindi non ci poniamo manco la domanda. La scrittura The Bongiovanni Family La voce degli extraterrestri Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche Più di un miliardo di persone incontrate in tutto il mondo Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre Il testo inedito della madre di tutte le profezie Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi con dossier e ricerche su temi di estrema attualità Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo Una risposta per chi cerca la verità Un archivio completo